ok nintentari benvenuti tutti prima di tutto iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanella per avere tutte le notifiche su quando usciranno i nuovissimi video ma ora toccate matteo ok ci siamo con un nuovissimo gioco ringrazio chi ce l'ha dato e andiamo con il nuovissimo gioco per nintendo switch o una novità che un nuovo gioco più che una novità e vediamo adesso sarà lunghissima la storia new game dovevo cambiare la lingua forse c'era anche in italiano saltiamo un po le cose se no è lungo come video ok dobbiamo scegliere ok 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 2010 Sembra quasi un cartone risposte Sapete quelli che dovete rispondere alle domande che vi fanno Le risposte che dovete dare Magari anche no, per adesso è quello Ok Proviamo a vedere se si può saltare E' proprio giapponese, questo si vede proprio talmente tanto Tipo manga Ok 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 salto sto andando molto veloce per farvi vedere bene qualche cosa che c'è ma mi sembra che è fatto proprio così non c'è proprio un gameplay electronic wheels vediamo se riusciamo in salve salviamo qua no non devo farlo dal menu non si può cambiare la lingua se è possibile magari massimo sotto le descrizioni in italiano è scesa quasi una navicella vorrebbe essere una navicella il 0728 guardate come è bello il giappone con tutte le sue macchinette e infatti nei giochi rivengono riproposte vorrebbe prendere questa quale mezzo è segretta per cui non si sa qual è c'è il 3 è raro mi sembra che ha preso grazie grazie Arigato dobbiamo sempre salvare ok è quasi come un film un cartone anime infatti in alto continua a uscire fuori una cosa bene ragazzi abbiamo visto questo pezzettino e vi ricordo che questo gioco qua è da oggi potete trovarlo su eashop per cui tocca a te ciao ciao alla prossima oh ma dai è finito il video ci vediamo alla prossima sempre e soltanto Nintendari ciao iscriviti al canale